Gli studenti che studiano a Nuoro ieri hanno acceso riflettori sullo stato dell'arte del polo didattico universitario onorese, fatto di eccellenze ma che vive anche una serie di difficoltà dovute all'incertezza delle risorse che vengono stanziate in maniera estemporanea e spesso arrivano con gravi ritardi. Questo causa tutta una serie di problemi di natura didattica e amministrativa. Ad organizzare il convegno dal titolo Uninuoro, oltre le parole, le associazioni degli studenti universitari ad AIP e AUSF che riuniscono gli iscritti alle Facoltà di Scienze dell'Amministrazione e Scienze Ambientali, associazioni presedute rispettivamente da Maria Francesca D'Antoni e Valentina Puddu. Gli studenti hanno ricostruito la storia dell'esperienza universitaria onorese e hanno chiesto ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico presenti nell'auditorium della biblioteca SATA di dare risposte definitive alle loro richieste. Ai lavori ha partecipato anche Caterina Loi, commissario del Consorzio Universitario Onorese. Qual è lo stato dell'arte del Consorzio Universitario Onorese in questo momento? Oggi dobbiamo solo riconoscere la soddisfazione di tutti per l'iniziativa perché è venuta dagli studenti, soprattutto da studenti che si sono riuniti in associazioni, sia gli studenti forestali che gli studenti del corso giuridico e quindi la loro iniziativa, il loro entusiasmo spinge tutti a crederci, a lavorare perché l'Università Onorese rimanga e cresca. Ci sono problemi di finanziamenti, com'è la situazione? La questione finanziamenti è ancora un problema cronico. Ci auguriamo che nel 2015 l'amministrazione regionale superi i problemi legati al patto di stabilità e che le risorse vengano messe a disposizione dell'ente dall'inizio dell'anno.